un saluto a tutti questo terzo video raccoglie delle considerazioni sul diciannovesimo secolo ecco io credo che il diciannovesimo secolo rappresenti un periodo estremamente importante è stato il secolo nel quale la società occidentale il mondo occidentale ha raggiunto la maturità è stato un secolo preannunciato da importanti cambiamenti nel campo scientifico nel campo tecnologico quindi con l'illuminismo abbiamo avuto questa rivoluzione scientifica da lì a poco si è innescata sul finire del settecento questa rivoluzione tecnologica con l'invenzione del della macchina vapore con la catena industriale ecco che ha rappresentato la soglia e nell'ottocento entrata di forza questa novità questo cambiamento che ha rivoluzionato la vita di tutti se pensiamo che per secoli l'uomo si spostava grazie alle proprie gambe oppure grazie alle zampe di qualche animale che poteva cavalcare o che traneva dai carri allora ci rendiamo conto del del balzo improvviso e poi questa tecnologia ha in qualche modo nutrito se stessa e siamo arrivati al punto in cui le scoperte scientifiche tecnologiche hanno consentito l'apertura di nuovi orizzonti c'è stata la scoperta della fotografia verso la metà dell'ottocento nel 1839 con daguerre nips e talbo e da lì a poco il cinema e pensate alla rivoluzione prima di allora la realtà poteva essere solo riprodotta dalla manualità degli artisti vigevo un concetto che era quello della verosimiglianza ecco per la prima volta abbiamo una superficie che cattura la luce che disegna con la luce una realtà che è documentata che è quella non si fugge il cinema addirittura archivia il presente lo consegna alle generazioni future quindi anche questo rappresenta un cambiamento epocale all'interno di quelle scoperte di quel di quei passi avanti nel campo della della scienza e della tecnologia in questo caso ma al di là dei vari cambiamenti che sono accaduti c'è senz'altro l'incontro tra due culture che potremmo considerare antitetiche c'è la cultura occidentale che era arrivata a maturazione incontra la cultura orientale ormai nella fase della decrepitezza ma la scuola d'oriente io penso soprattutto alla dottrina del buddismo e poi in secondo luogo alla dottrina dell'induismo ecco che queste nuove queste nuove conoscenze importate dall'oriente collidono inizialmente con quella matrice della società occidentale che rappresentata dalla filosofia e abbiamo una da questa collisione o poi successivamente da questo incontro abbiamo una stagione incredibile inaugurata per certi aspetti da schopenhauer e dal suo pessimismo filosofico nel momento in cui si imbatte nel buddismo è proseguita poi con fridrich nietzsche e con la sua legge dell'eterno ritorno che ha attinto a piene mani comprendendola quella legge suprema descritta nella tradizione hindu e rappresentata dalla grande ruota del mavantara grande ruota del tempo anche concetti come la reincarnazione sottoposti a questa legge suprema mettono in discussione tutta quella dottrina filosofico religiosa che apparteneva all'occidente fino a quel punto e questo complesso scontro incontro può essere riassunto a mio avviso da due pensieri il primo di questi appartiene al filosofo socrate in qualche modo padre della nostra filosofia ed è quello quella massima che conosciamo tutti ed è questa sua affermazione nel quale dice io so di non sapere è chiaro che con questa affermazione socrate ha toccato il fondo toccato il fondo della conoscenza limitata all'esistenza umana a fronte di una conoscenza infinita che non può essere circoscritta e nello stesso periodo quasi quindi nel quattrocento avanti cristo circa un eremita mistico cinese chuan zu secondo maestro in ordine dopo lao zu secondo maestro del taoismo riferisce un pensiero contrapposto uguale contrario perché il nostro chuan zu afferma io non so di sapere e questo rappresenta un po il divario l'opposizione tra questi due mondi da un lato all'occidente dall'alto all'oriente in questo non sapere di sapere che cosa ci vuole dire chuan zu ci vuole dire che attinge ad un pozzo inesauribile di informazioni quello che poi verrà razionalizzato nel nella nostra concessione occidentale da carl gustavi jung verrà chiamato inconscio collettivo che è possibile conoscere nel quale possibile attingere solo nel momento in cui viene messa in stallo viene viene sacrificata la nostra coscienza egoica che sopravvive nella nella sua illusione d'essere grazie al pensiero e quindi si scontrano due sistemi quello occidentale che in qualche modo è riassunto da da socrate nelle nelle sue posizioni che si serve della logica e attraverso la logica poi approda anche alle grandi rivoluzioni in campo scientifico tecnologico e l'altro mondo quello orientale che invece studia il processo del pensiero studia la logica crea un qualcosa che dall'esterno osserva ecco questo osservatore questo osservatore capita tra capo e collo si presenta come un nuovo personaggio in quella storia della filosofia ottocentesca ma poi non ci possiamo fermare non ci possiamo fermare qui perché nell'ottocento prende forma anche quella passione per le civiltà scomparse i primi tentativi nel campo dell'archeologia che erano stati compiuti nel settecento vengono organizzati abbiamo via la parte occidentale queste spedizioni ai quattro angoli del mondo alla ricerca di conferme della della nostra esistenza della nostra civiltà civiltà intesa come civiltà umana questo desiderio questa fame insaziabile che porta questi avventuri questi personaggi questi capitani di avventura solcare gli oceani ad esplorare terre che fino a quell'epoca non erano quasi conosciute e quindi ancora una volta ad incontrare ad imbattersi in quelle tradizioni d'oriente che riferivano dei sistemi molto lontani dei nostri anche gli stessi sistemi religiosi non molto lontani dei nostri e tutto l'emergere di una conoscenza quindi che aveva matrice sciamanica che aveva matrice legata a delle pratiche magiche divinatorie legate al appunto allo studio della mente alla meditazione tutto un mondo che prima di allora non era stato compreso dall'occidente conseguentemente nell'occidente la ripercussione l'onda d'urto di queste di queste scoperte di queste conoscenze producono un interesse che che poi va anche oltre abbraccia un po tutta la sfera dell'occultismo si studiano i fantasmi gli spiriti le vocazioni ci fanno ballare i tavolini ci sono ciarlatani e persone che invece svolgono la ricerca con maggiore serietà e vengono compilate migliaia di pagine di scritti che cercano di riorganizzare queste conoscenze poi questo urto questa contrapposizione tra oriente e d'occidente la troviamo anche nell'arte basti pensare che l'ottocento inaugura la stagione dell'arte moderna con il romanticismo agli inizi proprio del XIX secolo che mette in discussione tutte le regole tutte le maestranze tutti i saperi che erano convogliati nel mondo accademico perché in qualche modo cercavano di riordinare le conoscenze delle botteghe originate nel medioevo fino al termine del seicento e quindi questo artista romantico che che crea da sé le proprie regole contravenendo tutte le regole che erano state date e si contrappone conseguentemente a quell'arte orientale possiamo pensare al giappone alle stampe giapponesi all'arte cinese ancora una volta dove abbiamo invece come tappa fondamentale l'incorporare le regole renderle metabolizzare al punto che il gesto appaia spontaneo ma che in realtà questo gesto sia costruito nella disciplina un po come l'arte marziale ecco gli spunti sono veramente tanti ma vale la pena spendere ancora due parole sul su questo XIX secolo perché questa collisione questo incontro poteva produrre l'uomo nuovo se poteva produrre un uomo che dal dall'amalgama di esperienze così diverse riusciva a saltar fuori da entrambe le parti e proporre un nuovo sistema ci sono stati molti molti tentativi in questa in questa direzione io al momento posso pensare a stirner in qualche modo oggetta così le basi di una visione anarchica della società con questo trattato straordinario che l'unico le sue proprietà ma poi gli esempi non si contano ecco quindi che c'era la possibilità di creare qualcosa di nuovo che fosse il frutto di questo incontro di questa diversità culturale e non è accaduto evidentemente il nostro occidente entrato in crisi nel corso di questa collisione nell'assimilazione di queste conoscenze così distanti dal punto di vista culturale ma se l'avremmo ce l'avremmo fatta se non è accaduto è perché da lì a poco ci sono stati due grandi conflitti mondiali in particolare la seconda guerra mondiale e per quanto possa apparire balzana questa riflessione io sono convinto che in qualche modo le due guerre mondiali siano servite proprio per uccidere questo uomo nuovo ed oggi ci ritroviamo un uomo post moderno che non è frutto di questa di questa rielaborazione di questo incontro scontro culturale ma che anzi stato preconfezionato con un sistema di fabbricazione artificiale ed è stato preconfezionato l'idea di questo di questo uomo nuovo di questo uomo moderno è caduta dall'alto e abbracciato dei valori che sono i valori che conosciamo tutti quelli della mercificazione e quelli che hanno quei valori che hanno messo il denaro al primo posto in ogni cosa distruggendo tutto quello che nel 19 secolo si era tentato di fare ecco io rimando chi mi ascolta a studiare il 19 secolo ad attingere delle informazioni che stampate nelle riviste nei volumi da numerosi studiosi occultisti c'è stato un fiorire di esoteristi in quel periodo fra massoni medium che non finisce più e queste esperienze sono ancora si possono ancora trovare la differenza tra l'andare su internet e reperire informazioni così uso mano recenti e quello invece di affrontare uno studio sistematico su fonti precedenti è semplice queste informazioni sono state divulgate sono state stampate e non si possono cancellare è difficile allora il sistema il potere per renderle meno accessibili anche attraverso l'uso dei canali informatici che cosa ha fatto le ha mescolate le ha negate in un oceano di disinformazione quindi oggi io invito veramente chi ha intenzione di studiare tematiche insolite che hanno a che fare con l'origine della nostra specie con le specie mitologiche e con quant'altro di saltare a pie pari questo modernismo incalzante di offertoci dai media ed andare a leggere con metodo delle fonti precedenti in particolare quelle del XIX secolo che offrono una visione certamente più pure a questo proposito vi segnalo che nella breve descrizione al video trovate un link cliccando su quel link trovate un regalo sono circa 70 volumi di una rivista francese con un totale di svariate migliaia di pagine che si intitolava l'iniziazione e che vedeva scrivere sulle pagine numerosi illustri personaggi dediti allo studio della dottrina occulta ed esoterica nuovamente un caro saluto grazie 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 a tutti. Grazie a tutti.